Con l'inaugurazione di questa mattina, alla presenza delle autorità locali del Presidente del Tribunale di Torino Terzi, anche a Susa è attivo l'ufficio di prossimità. Dopo gli uffici di Moncaglieri e Pinerolo si aggiunge questa nuova apertura che servirà tutta la Valle di Susa. Si tratta di uno sportello dedicato alla consulenza e allo svolgimento di alcune pratiche relative soprattutto ai temi della pubblica tutela. L'intendimento è quello di estendere sempre di più questo servizio anche in altre zone del territorio della città metropolitana di Torino. È un'operazione che vuole portare la giustizia sui territori ma vuole anche in contemporanea contribuire a rivalutare le comunità territoriali in contrapposizione ai fenomeni di urbanizzazione e di accentramento che probabilmente in prospettiva creeranno più problemi dei vantaggi che oggi appaiono. Le comunità territoriali hanno molte opportunità da sviluppare però hanno anche necessità che i servizi siano facilmente usufruibili vicini al cittadino. La città metropolitana di Torino che ha firmato il protocollo d'intesa insieme agli altri enti e istituzioni da anni si occupa attivamente di questi temi. La nostra amministrazione per legge ha dei compiti di consulenza e informazione ai tutori e agli amministratori di sostegno quindi l'occasione dell'apertura di un ufficio di prossimità che permetta al cittadino di avere non solo un luogo di consulenza ma un luogo di consegna delle pratiche che devono essere destinate al giudice e tutelare di Torino ci vede coinvolti in prima persona in quanto possiamo portare la nostra esperienza sul campo a disposizione dei territori lontani dal capoluogo.